Dopo Lukaku l'Inter bussa di nuovo alla porta del Manchester United. Alexis Sanchez si avvicina al ritorno in Italia ma devono essere limati ancora alcuni dettagli visto che il cileno guadagna 15 milioni a stagione. I Red Devils devono aiutare i nerazzurri con il pagamento dell'ingaggio. Continua il tormentone legato a Mauro Icardi. Il Napoli ha dato l'ultimatum all'argentino che aspetta sempre la Juventus. Entro la fine di questa settimana dovrà arrivare il sì altrimenti i partenopei molleranno la presa. Intanto anche il futuro di Dybala è in bilico ma lo scambio tra i due argentini sembra sempre essere più infattibile. Firenze sogna Franca Ribéry. Daniele Pradè è uscito allo scoperto e spera di convincere il francese a vestire la maglia viola. Intanto per la difesa il nome è quello di Lorenzo Tonelli in uscita dal Napoli mentre la prima uscita ufficiale dell'era commisso è andata bene 3-1 al Monza in Coppa Italia seppur a fatica. Buonasera e ben ritrovati al TMW News. Tanto mercato in questa nostra edizione a partire da Alexis Sanchez che si avvicina a vestire la maglia dell'Inter per quello che sarebbe un ritorno nel nostro campionato. La Serie A. Buonasera a Raimondo De Magistris. Ciao a Lorenzo, buonasera. E a Tommaso Bonanno. Un saluto a tutti. Raimondo, per prima cosa affrontiamo l'argomento relativo ad Alexis Sanchez. Dopo Lukaku l'Inter torna a bussare alla porta del Manchester United. Che acquisto sarebbe Sanchez visto che nelle ultime stagioni non è che abbia proprio convinto? Manchester United malissimo perché fu acquistato per diventare la stella dei Red Devils. Evidentemente anche per poco tempo si è imposto come titolare e poi è subito scivolato dietro nelle gerarchie. Però già il Sanchez che abbiamo visto ad esempio in Coppa America è un Sanchez che anche nell'Inter può fare tranquillamente la differenza e giocarsi il posto con Lautaro Martinez perché è un giocatore che secondo me tecnicamente non si discute. Udinese, Barcellona, Arsenal ha comunque fatto sempre molto bene. A Udine lo ricordiamo ma anche a Barcellona è stato un titolare e anche all'Arsenal fece molto molto bene per larghi tratti. Quindi al netto dell'ultima esperienza allo United si ritroverebbe in casa l'Inter un potenziale titolare e a che condizioni? Molto vantaggiose perché se per Lukaku è stata l'Inter che ha dovuto assecondare le richieste del Manchester United qui è il contrario. Perché finito il mercato in Premier League Sanchez non rientra nei piani di Sorsker e vuole andare via. E lo United deve in qualche modo accontentarlo perché il rischio è quello di ritrovarsi una vera e propria bomba in casa con un giocatore scontento che non gioca, che si allena male e che quindi è anche un cattivo esempio per gli altri compagni. Al contrario Sanchez vuole Milano quindi lo United che paga tanto all'ex Sanchez perché è uno dei giocatori più pagati della Premier League circa 15 milioni di euro netti a stagione ha detto sì non solo al prestito ma anche al pagamento di parte dell'ingaggio dell'attaccante cileno. Ci sono buone possibilità che già questa settimana l'affare diventi ufficiale. Felicevic il suo procuratore è a Londra in Inghilterra già da diversi giorni sta provando a trattare e la trattativa prosegue molto bene perché Sanchez dopo la trattativa a Dzeko che è durata tantissimo ed è sfumata dopo il rinnovo di Dzeko con la Roma è destinato lui sì ad arrivare all'Inter. Una trattativa che si sta evolvendo con il passare delle ore. Ha parlato della trattativa che potrebbe portare Sanchez all'Inter. Xavier Jacobelli direttore di Tutto Sport ai microfoni di TMV Radio. Beh no, per quanto riguarda Sanchez pare che il titolo sia assolutamente molto chiaro perché l'arrivo dell'ex Udinese e prossimamente ex Manchester United alla corte di Antonio Conte esclude uno scambio con Icardi relativo a Dybala che era una delle ipotesi attorno alle quali Inter e Juventus hanno lavorato per diverse settimane salvo poi arrivare alla situazione dei titoli incrociati dell'una e dell'altra società. La Juventus non vuole che Icardi vada all'Inter, l'Inter non vuole che Icardi vada alla Juventus. Allo stato attuale è un altro riscolto del confronto a tutto campo sul mercato tra Marotta e Paratici ma come era largamente prevedibile nel momento in cui l'ex amministratore delegato della Juventus è apportato all'Inter. Torniamo a parlare anche di Icardi e Dybala però soffermandosi ancora un po' su Alexis Sanchez è una trattativa che come ha detto Raimondo può svilupparsi e soprattutto il Manchester United può dare un aiuto sensibile all'Inter per quel che riguarda il pagamento dell'ingaggio. A quel punto l'Inter avrebbe come titolari Lukaku e Sanchez o secondo te Sanchez dovrebbe lottarsi il posto con Lautaro Martinez? Se guardiamo il curriculum del giocatore al netto poi come diceva Raimondo giustamente dell'ultima stagione, dell'ultimo anno e mezzo con la maglia dei Red Devils il curriculum dice Sanchez, nel senso Lautaro Martinez è un giocatore potenzialmente fenomenale che ancora però deve far vedere tutto il suo potenziale e sicuramente lo farà vedere. Sanchez ha fatto vedere di che pasta è fatto soprattutto con la nazionale cilena ma anche ci ricordiamo le faville che fece proprio nel nostro campionato con la maglia dell'Udinese prima poi di emigrare fuori dai nostri confini ad oggi sulla carta sì, soprattutto deve ancora arrivare, però sulla carta sì per tutta una serie anche di numeri poi alla fine sono i numeri che parlano, un giocatore che sa esaltarsi, un giocatore molto tecnico se vogliamo anche abbastanza simile a Lautaro anche per quanto riguarda la statura, alcuni colpi però sicuramente un giocatore che si integrirebbe benissimo con Lukaku c'è anche la questione della formula poi, del presto anche qui il Manchester potrebbe venire incontro, si parla di un prestito con diritto di riscatto magari il Manchester vorrebbe mettere un prestito oneroso però insomma non si parla di cifre astronomiche come nel caso di Romelu Lukaku, in questo caso mi sembra che possa essere un'operazione che accontenterebbe tutti il giocatore è l'Inter che trova un giocatore forse anche più utile rispetto a Dzeko e lo stesso Manchester United che si toglierebbe dalla rosa come diceva Raimondo un giocatore fuori dalla rosa, fuori dagli schemi di Solskjaer e potenzialmente anche una grana per lo spogliatoio Per chiudere l'argomento su Sanchez, credi Raimondo che Lautaro Martinez potrebbe giovarne dall'arrivo di Alexis Sanchez oppure perderebbe tanti minuti che potrebbero anche rallentare il suo processo di crescita? Beh più la seconda, è chiaro che non lo dirà mai nessuno, non lo dirà nemmeno Lautaro Martinez però evidentemente se arriva Sanchez a quel punto la concorrenza si fa ben più dura ad oggi Lautaro Martinez ha il posto assicurato così come Romelu Lukaku anche perché di fatto sono loro gli attaccanti a disposizione di Antonio Conte se escludiamo Mauro Icardi che non rientra nel progetto dell'Inter se arriva Sanchez, è chiaro che con Lukaku che resta a terminale offensivo intoccabile Sanchez va a giocarsi il posto proprio con Lautaro poi può essere anche uno stimolo in più, un motivo di crescita ma sicuramente l'arrivo di Sanchez e l'eventuale inserimento in rosa di Sanchez toglierebbe dei minuti a Lautaro Hai parlato anche di Mauro Icardi perché prosegue il tormentone legato all'ex numero 9, ex capitano dell'Inter in uscita mancano due settimane precise alla fine del calciomercato il Napoli però ha dato l'ultimatum ovvero entro una settimana vuole sapere se Icardi è pronto ad accettare la destinazione azzurra Icardi sta ancora aspettando la Juventus, una Juventus che però non si sta muovendo in questo momento Sì, il Napoli e l'Aurentis giuntoli hanno un po' capito l'antifona cioè una Vandanara, un Mauro Icardi che non chiudono mai definitivamente la porta al Napoli ma non la aprono nemmeno questo perché? Anche per avere uno spari in partner importante aspettando le mosse concrete e ufficiali della Juventus che come hai ricordato tu ad oggi non sono arrivate che però arriveranno con la Juventus che ha la stessa strategia da giugno cioè aspettare l'ultima settimana, presentare un'offerta da 40 milioni di euro o poco più e strapparlo all'Inter forte della rottura totale tra l'Inter e Mauro Icardi il Napoli l'ha capito e non vuole aspettare fino alla fine del mercato quindi è stato chiaro, aspettiamo questa settimana prima giornata di campionato al massimo gara contro la Ferentira e poi ci tiriamo indietro anche perché poi dobbiamo valutare delle alternative ad oggi l'impressione che Icardi non abbia chiuso la porta al Napoli ma stia soprattutto lì ad aspettare le mosse della Juve ecco perché il Napoli vuole avere chiarezza, chiarimenti quanto prima, entro questa settimana e poi eventualmente valutare altro c'è da dire che il Napoli ci sta provando davvero in tutti i modi per arrivare a Mauro Icardi ha messo sul piatto anche Arkadiusz Milik però ad oggi questa trattativa non si sblocca C'era anche l'ipotesi legata al Monaco però sono arrivate anche le parole di Vandanara moglie agente dello stesso Mauro Icardi che ha chiuso la porta, ha detto non andrà al Monaco pensi che si possa aprire comunque un'altra pista estera oppure la volontà di Icardi che è sempre stata chiara quella di restare in Italia e quella di vestire la maia della Juventus alla fine troverà la soluzione migliore per tutti Sì, penso che ancora si debba battere questa pista dobbiamo dire che sono arrivate le parole di Vandanara sul Monaco ma dobbiamo anche dire per l'onore di cronaca che quella francese è sempre stata la pista più debole comunque non si tratta di un club di prima fascia tra l'altro in crisi anche da diversi mesi per quanto riguarda la Ligane quindi diciamo così era un'alternativa da tenere lì sempre viva però è arrivata una conferma a quello che potevamo già sapere la Serie A resta in cima alla lista al di là poi che sia Juventus, Napoli, Roma a questo punto la togliamo con il rinnovo di Dzeko però sì, la Serie A resta in prima battuta e francamente anche per lo stesso giocatore credo che una di queste due squadre Juventus e Napoli possa essere la soluzione migliore anche visto il poco tempo ormai che ci separa dalla chiusura del mercato E di Mauro Icardi e non solo ha parlato intervistato dal nostro Lorenzo Marucci l'avvocato Giulio Dini andiamo a sentirlo Giulio Dini parlando dell'ultima fase di questo calcio mercato che cosa aspettarsi? Quale sarà il vero e proprio colpo che verrà messo a segno da una big tutto ruota così sembra intorno a Icardi? L'hai detto te quale sarà il vero e proprio colpo di questo mercato probabilmente lo spostamento del centroavanti dell'Inter può darsi anche vada a spostare un po' gli equilibri quello che magari nell'interesse del campionato tutti ci auguriamo Dopo la permanenza di Dzeko alla Roma Icardi può diventare un grande obiettivo del Napoli potrebbe davvero concretizzarsi questo affare per i partenopei? Ma questo non lo so penso che il Napoli sia una squadra già molto ben attrezzata e che il lavoro di Ancelotti in questa stagione possa portare frutti superiori se l'obiettivo è quello di aumentare il potenziale in fase di finalizzazione certo è che il Napoli farebbe un ulteriore passo in avanti Abbiamo detto che la Juventus non si sta muovendo in questo momento Raimondo perché comunque la volontà della Juve è quella di cedere prima di acquistare il nome che continua a circolare è quello di Paolo Di Bala però anche a vedere l'amichevole con la Triestina il gol bellissimo di Di Bala e poi l'esultanza con il nome mostrato ai tifosi fa capire che Paolo Di Bala vuole restare alla Juventus e non ha nessuna intenzione di andare via alla fine avrà la meglio lui? Alla fine più passa il tempo più è difficile spostare un giocatore come Di Bala a sua volta subordinata al trasferimento di Neymar al Barcellona o al Real Madrid ma è un altro grandissimo trasferimento il tutto da definire in due settimane è chiaro che i tempi sono davvero ristretti e in questo momento se non arrivano altri attaccanti credo che la società spingerà per un sacrificio minore magari Mario Mandzukic ma non Di Bala che in questa Juventus sarà sicuramente una stella poi magari con l'arrivo di Cardi lo scenario può cambiare perché Cardi può essere centravanti più utile per Maurizio Sarri rispetto a Paolo Di Bala però tutto dipende anche da altre operazioni e secondo me col passare del tempo diventa difficile spostare un giocatore come Di Bala da Torino vedremo, ci sono comunque ancora due settimane e non c'è certezza del fatto che poi Cardi pur non andando a Napoli vada alla Juventus perché a quel punto se l'Inter si ritroverà solo con un'offerta da 40 milioni di euro io credo che possa tranquillamente decidere di metterlo in tribuna sapendo che comunque pur con sei mesi in tribuna a gennaio Icardi non varrà meno di 40 milioni di euro però venderlo alla Juve vuol dire di fatto ad oggi venderlo alla principale concorrente per lo Scudetto e credo sia l'ultima cosa che voglia fare Marotto arrivate anche le parole di Steven Zhang presidente dell'Inter che ha ribadito ancora una volta mai alla Juventus per quel che riguarda Mauro Icardi l'altro nome in uscita dalla Juventus e in attesa di capire dove potrà continuare la sua carriera è quello di Gonzalo Higuain anche in questo caso difficilissimo per la Juventus anche perché comunque il rinnovo di Dzeko ha un po' sparigliato tutte le carte sì, quel domino che si andava formando quella bozza di domino che si andava formando nell'ultima due settimane a questo punto poi è saltato in aria il Castello è saltato in aria dopo il rinnovo di Dzeko se vogliamo per Iguain sempre tenendo ben presente la data di chiusura del mercato è ancora più difficile perché qui parliamo di cifre chiaramente inerenti all'ingaggio a quanto sta percependo e quanto dovrebbe percepire Iguain importantissime, fuori portata per quasi tutte le squadre italiane per un giocatore neanche più giovanissimo ovviamente calcisticamente parlando quindi fondamentalmente è più difficile a meno che non possa arrivare un'offerta dall'estero ma anche in quel caso è molto difficile perché comunque le grandi big, le grandi squadre Iguain deve per forza di cose giocare in una grande squadra hanno completato, stanno completando gli organici e non sono arrivate offerte o interessamente tali da far presagire, far pensare a una possibile partenza imminente di Gonzalo Iguain nel giro di poche ore e di pochi giorni quindi francamente la Juventus ha una bella gatta da appelare visto che come dicevamo in precedenza c'è anche la grana di bala di bala, c'è anche Manzo, se non succede uno di questi tre francamente risulta anche difficile poter pensare a Licardi di turno Andiamo adesso a sentire l'intervista realizzata dal nostro Lorenzo Marucci all'ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi Si aspettava che fosse così ingabbiata dalle mancate cessioni? La Juventus è ingabbiata ingabbiata mi vuole dire perché il mercato dura fino a settembre e sono giocatori questi qui che sicuramente possono andare in circolo in Italia magari non alle condizioni dell'apertura di quando sono stati presi però possono andare in circolo in qualsiasi squadra buona in Italia il problema dell'Inghilterra purtroppo che chiude il mercato diventa un problema duro perché è una delle nazioni che paga i giocatori e questo qui è sicuramente un colpo importante però la Juventus se li restano i guaini se li resta Di Bala non è che li restano giocatori da poco li restano giocatori di cui può far conto durante il campionato Cambiamo adesso argomento e parliamo del sogno della Fiorentina quello di portare in Italia a Firenze Frank Ribery ha parlato è stato chiarissimo ieri Daniele Pradè in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina per 3-1 contro il Monza in Coppa Italia spero che ci ascolti lo vogliamo portare non possiamo offrirgli gli stessi soldi dei russi e degli arabi ma se vuole continuare a giocare ad alti livelli Firenze è pronta ad abbracciarlo ce la farà la Fiorentina a convincerlo? la Fiorentina ci sta provando in maniera molto seria importante e questo è sicuramente l'argomento principale cioè sicuramente la Fiorentina non può andare oltre 4 milioni di euro a stagione che già sono tanti anche se Ribery è svincolato altrove in Russia ma soprattutto in Arabia Saudita possono offrirne 7-8 la Fiorentina non arriverà mai a queste cifre però la Serie A con tutto il rispetto e tutto altro campionato permetterebbe a Ribery di restare sulla cresta dell'onda la Fiorentina è la ricerca del nome anche internazionale che permette a questa Fiorentina di continuare ad avere sempre più appeal anche a livello mediatico e quindi un colpo anche per una nuova Fiorentina americana che ci sta bene al netto del fatto che poi Ribery dovrà comunque giocarsi il posto e che non potrà giocarle tutte perché è un giocatore di 37 anni e che magari dopo Ribery arriverà anche un altro esterno offensivo però è un obiettivo di Pradè ormai dichiarato da 2-3 settimane vedremo in questo caso è svincolato quindi dipende tutto e solo dalla volontà di Frank Ribery Altre parole importanti Tommaso Bonan sono state quelle relative a Cristiano Biraghi perché ne ha parlato Pradè ne ha parlato anche Vincenzo Montella Biraghi vuole l'Inter però non siamo vicini alla chiusura cosa potrebbe sbloccare la trattativa visto anche che l'affare lo scambio Biraghi-Dalbert non si potrà più fare parole di Pradè perché Dalbert ha deciso di andare al Niz sì, Dalbert ha preferito il Niz e quindi di fatto ha bloccato uno scambio un'idea di scambio un'operazione un'asse di mercato che sembrava avviata direi in maniera anche abbastanza importante Pradè è stato chiaro Biraghi vuole l'Inter ma l'affare si fa alle nostre condizioni nel senso Politano che era l'altro nome di cui si parlava in ambito di asse di mercato tra Fiorentino e Inter non ci interessa ha detto ha detto Pradè o meglio non ci interessa in questo determinato momento che stiamo parlando di Biraghi con l'Inter l'unica poteva essere Dalbert e quindi ad oggi siamo fermi proprio cito lo stesso direttore sportivo della Fiorentina siamo fermi è un affare che ci sbilanciamo al 90% ma forse qualcosa in più alla fine si farà perché poi all'Inter fa comodo Biraghi è cresciuto nel settore neroazzurro l'avventura a Firenze sembra essere finita lo stesso giocatore vuole cambiare aria magari con un'offerta leggermente superiore da parte dell'Inter un'offerta economica senza contropartite tecniche allora l'affare si potrà sbloccare nel frattempo occhio perché la Fiorentina ha già in casa Terzic che è stato l'ultimo giocatore acquistato da Corvino prima di lasciare Firenze che ha giocato contro il Monza titolare e chissà che magari la Fiorentina non si possa ritrovare già in casa il sostituto di Biraghi senza dover andare a spendere troppi soldi per sostituire il terzino della Nazionale italiana In 30 secondi Raimondo prima di chiudere Lorenzo Tonelli torna di moda in casa Fiorentina il nodo alla formula perché il giocatore vorrebbe passare alla Fiorentina a titolo definitivo il Napoli però potrebbe in questo caso aiutare un po' la Fiorentina Sì è chiaramente in uscita dal Napoli un giocatore che non rientra ormai da tempo nei progetti del Napoli quindi ci sta che il Napoli possa darlo a poco e non è consuetudine per il Napoli che vende quando vende sempre molto bene i suoi giocatori però evidentemente nel caso di Tonelli sono d'accordo con te potrebbe fare un'eccezione Grazie a Raimondo De Magistris e a Tommaso Bonan e grazie a tutti voi per averci seguito buona serata Grazie a tutti